Salve a tutti, bentornati in un nuovo video di Polvere e Fumetti, la vostra forse rubrica preferita dove vedete diventare più povero ogni settimana rispetto alla precedente. Allora, settimana prossima ci siamo, come dire, siamo tornati a delle vecchie abitudini, vi ho mostrato i nuovi arrivi di Ho Visto Cose e questa settimana ritorniamo come sempre alle vecchie abitudini. E come sempre, balzando una settimana, come ogni buona vecchia abitudine, mi ritrovo con una pila di cose considerevole, per cui cercherò di parlarvene il più brevemente possibile, in attesa poi magari di sviscerare qualcosina di più nei video futuri. Già metto le mani avanti, non so cosa riuscirò a combinare questa settimana, vedete che negli ultimi due ho perso un po' il ritmo, però cercherò un po' di ritornare in carreggiata con due video recensioni, due video approfondimenti, insomma, alla settimana. Come sempre, in descrizione trovate i link per acquistare questi e altri fumetti su Amazon e se lo fate tramite i link che vi lascio in descrizione, a me arriva una piccolissima percentuale che come sempre a voi non toglie nulla. Cominciamo con l'edicola, classiche uscite di Supereroi Classic, numeri 172 e 173 rispettivamente di Silver Surfer e Hulk. Come sempre, ormai non ripeto più tanto quello che penso riguardo a questa testata, perché secondo me è veramente molto molto interessante, è un'ottima alternativa ai ben più costosi Marvel Masterworks. Esce una volta praticamente alla settimana, sono quei circa 30 euro al mese che vi permettono di leggere un bel po' di storie, insomma, delle origini di alcuni personaggi Marvel, delle origini proprio della Marvel come casa editrice, ed è veramente molto molto interessante. Passando a Bonelli, doppia razione di Dragonero, perché questo mese è uscito sia lo speciale di Dragonero del 2020, solito prezzo di 6,90€, Cuore di Tenebra, con questa bellissima copertina, stavo per dire di Fabrizio De Tommaso, ma non sono sicuro. Fabrizio De Tommaso ci ho preso, bravissimo, come sempre scritta da Luca Enoch, uno dei due padri appunto di questo personaggio, disegnato da Alessandro Pastrovicchio, che se non sbaglio dovrebbe essere un autore prestato appunto alla Bonelli dalla Disney, dalla scuderia Disney italiana appunto della Bonelli. Non vedo l'ora, come sempre, di fiondarmi anche in questo speciale, in questa serie, e poi è uscito anche il classico numero della serie canonica, che è invece il nono numero della serie Dragonero in ribelle, Scacco alla Torre, anche qua penso che la storia sia sempre esatta di Luca Enoch, disegnato da Gianluca Gugliotta e da Alex Massacci, con copertine sempre spettacolari, mi piace un sacco, sono veramente contento che Gianluca Pagliarani sia diventato il nuovo copertinista fisso. Della serie, perché mi piace veramente veramente un sacco. Passando poi ai manga, ci sono un po' di cose carine di cui parlare. Innanzitutto è uscito il primo numero già un paio di settimane fa, ma mi sono deciso solo questa settimana a darci una chance, dopo aver letto una preview molto molto divertente, che è La Via del Grembiule, lo Yakuza casalingo di Kosuke Ono, pubblicato da J-Pop a 6€ e a 5,90€. Ci ho pensato per un po', poi ho visto la recensione che ne ha fatto Kirio Bon Mauri nel suo canale, e mi sono convinto, dai senti almeno il primo proviamolo, perché sembra essere una cosa molto molto divertente, questo Yakuza famosissimo, un personaggio anche abbastanza controverso e conosciuto per le sue malefatte. Insomma, che però adesso decide di dedicarsi interamente alla vita proprio della massaia, della vita da brava donna di casa, e questo già fin nella prima preview genera tutta una serie di gag che sembrano essere molto molto divertenti, e questo è stato il motivo per cui mi sono voluto approcciare un po' questa serie e vedere un po' com'è, provare questo primo numero, vedremo un po' come sarà appunto questo incipit di questa nuova serie. Prosegue poi un'altra serie shonen che non mi fa strappare i capelli, ma adesso dovrò decidere un po' cosa fare, che è Jujutsu Kaisen, Sorcery Fight, il quarto numero dal titolo Ti Ammazzo, di Gege Akutami, questo pubblicato, mettimi a fuoco per favore, ecco, di Gege Akutami pubblicato invece da Planet Manga, questo che è una serie, ripeto, senza tantissime pretese, che mette insieme un po' alcuni stereotipi appunto del fumetto per ragazzi giapponese, si tocca tanto Naruto, si tocca tanto Blue Exorcist, si tocca tanto Kiseiju, insomma, è divertente, è interessante, non è niente di particolare, anche dal punto di vista grafico devo dire che non è niente di stratosferico, mi ricorda molto come stile, ovviamente non come dettaglio, Togashi, mi veniva in mente il nome, mi ricorda molto appunto l'autore di Hunter Hunter, anche perché c'è un personaggio a un certo punto che ha un tatuaggio sulla fronte che è uguale, identico a uno dei villain principali proprio di Hunter Hunter, di cui adesso mi sfugge il nome, e che adesso non troverò più, però insomma, eccolo qua, però sembra essere una cosa abbastanza leggera, abbastanza tranquilla, per ora, ripeto, non mi ha fatto strappare i capelli, non sembra una roba particolarmente stratosferica e innovativa, però lo sto leggendo molto molto volentieri, come sto leggendo anche molto molto volentieri, Demon Slayer, di Kyoharu Gotouge, pubblicato questo invece da Star Comics, questo nuovo shonen, insomma, che è un po' sulla bocca di tutti, per vari motivi, alcuni dicono che sia sopravvalutato e non mi sento totalmente di, come dire, di controbattere, però devo dire che mi piace, anche qua è una cosa molto tranquilla, sapete che sto cercando un po' questo genere di letture, di fumetti manga per ragazzi un po' leggeri, un po' tranquilli, che non abbiano troppe pretese, insomma, un po' per variare dalle mie classiche letture, mi piace abbastanza, anche come è disegnato, anche qua senza particolari picchi di gradimento, diciamo, senza particolari note, insomma, particolari, ecco, devo dire che sì, l'anime mi è piaciuto molto di più e grazie al cazzo, visto che è animato veramente veramente molto bene, però anche qua la storia tutto sommato si lascia leggere abbastanza tranquilla, non è una roba perfetta, non è una roba trascendentale, insomma, però se appunto state cercando una serie senza troppe pretese, che non sia particolarmente impegnativa anche proprio come lettura, appunto potrebbe essere una serie carina, divertente, piacevole da leggere, ripeto, senza particolari pretese. Sempre rimanendo in campo manga, ma spostandoci su un editore che ha cominciato da molto poco a pubblicare anche il fumetto giapponese, parliamo di Bao, parliamo di Bao e della collana Bao, che è appunto questa collana, anzi quella collana Iken, chiedo scusa, Bao mi sa che è un'altra collana, forse quella per i fumetti cinesi, mi è venuto un flash un momento, che è la taverna di Mezzanotte, Tokyo Stories, di Yaro Abe, ripeto, pubblicato da Bao Publishing al prezzo di 17€, questa serie da cui è stata tratta anche una serie... Piccolo stacco pubblicitario, solo per dirvi che probabilmente avendo urtato il microfono durante la registrazione, non ho più l'audio del microfono, quindi purtroppo da qui in poi seguirà l'audio della videocamera, me ne scuso, e inserite bestemmie. Buona continuazione. Gesù, una serie televisiva che trovate anche su Netflix, che ha come, diciamo, pretesto narrativo, questa locanda appunto, questa taverna di Mezzanotte, dove appunto vediamo passare tutta una serie di personaggi, tutta una serie di figure, che appunto, proprio come se fosse una specie di teatro, insomma, vediamo questa serie di personaggi passare in questo teatro, che è questa taverna, con questo protagonista, che è appunto il gestore della taverna, si parla di cibo, si parla di quotidianità, insomma, sembra una cosa molto molto interessante, per certi versi, molto molto alla gourmet, per certi versi, eh, molto alla lontana di Giro Taniguchi, però era una cosa interessante, mi ne aveva parlato molto bene il mio amico Emanuele, e appunto ho voluto darci un'occhiata, è una serie che sembra, se non mi sbaglio, sono circa, forse, 18 numeri, e se non sbaglio, Bao ha accorpato due numeri a botta, e appunto ho voluto darci un'opportuna occhiata, perché sembrava una cosa molto molto interessante, e salutiamo il Giappone con il quarto capitolo, il quarto volume della ristampa della Fenice, di Osamu Tezuka, che qua sono un bel po' indietro, devo leggere ancora il 2 e il 3, libro del mito, pubblicato sempre da J-Pop, sotto l'etichetta Osamushi Collection, che raccoglie tutte le opere ripubblicate appunto dall'editore di Osamu Tezuka, mi sto leggendo adesso il bisturi e la spada, che è molto molto bello, e anche questo la Fenice, il primo numero che mi è piaciuto veramente veramente molto, un bel excursus nella storia, non solo del Giappone, ma anche proprio nella storia dell'umanità, vista attraverso gli occhi di questa, anzi che ha come Phil Rouge, che ha come punti in comune appunto questa figura mitologica della Fenice, appunto questo simbolo di morte e rinascita, un po' come è appunto la razza umana, e sembra, anzi è molto molto bello, molto molto interessante, e appunto era una di quelle due serie insieme a Black Jack, che volevo assolutamente leggere, sapendo che appunto J-Pop avrebbe riportato in Italia tutte le opere di Osamu Tezuka. Sempre rimanendo in campo Bao, è uscito finalmente, perché volevo assolutamente leggerlo, il terzo volume di Gideon Falls, questa serie horror, thriller per certi versi, un po' alla Twin Peaks per alcuni aspetti, di Jeff Lemire e Andrea Sorrentino con i colori di Dave Stewart, pubblicata in questi cartonati al prezzo di 18 euro. Boh, è l'ennesima dimostrazione di quanto questa coppia di autori sia spettacolare, adesso vorrei cercare qualche pagina senza evitare, senza fare spoiler, però direi che se avete letto il secondo numero, e dovreste averlo letto perché veramente è qualcosa di spettacolare, già dal secondo numero insomma poi ci sono questi giochi, questi estri creativi di Sorrentino, madonna mamma mia, mamma mia, veramente eccezionale questa coppia che ormai praticamente è diventata la nuova Ed Brubaker e Dave Stewart, no Dave Stewart, ecco nessuno, poi Sean Phillips, dopo Criminals, dopo Dissolvenza Nero, dopo Killer Be Killed, insomma qua hanno fatto insieme questa serie, hanno fatto insieme Joker Killer Smile, Freccia Verde, Old Man Logan, insomma ne hanno fatte di cotte e di crude, e adesso stanno portando avanti questa serie spettacolare che veramente riesce proprio a trasmettere un senso di angoscia, un senso di inquietudine veramente veramente pazzesca, il secondo numero ha avuto veramente un picco, il finale termina con un, come dire, con un cliffhanger mostruoso, ci sono queste varie linee narrative che sembrano procedere l'una indipendente dall'altra che sembrano aver trovato un punto in comune e veramente io impazzisco, mi piace veramente veramente un sacco, penso che sia una delle cose migliori che trovate adesso per quanto riguarda il fumetto americano e assolutamente buttatevi perché è veramente spettacolare, mi sto impoppinando. Ho proseguito il recupero, e prima o poi dovrò anche cominciare a leggerlo, di Lock and Key, questo quinto volume della serie di Jo Hill e Gabriel Rodriguez, vista la serie televisiva mi sono un po' ripreso a continuare in questa serie, visto che il mio fumettaro mi mette sempre un sacco di peperculo per leggerla, Jo Hill nel caso non lo sapesse è il figlio di Stephen King, quindi insomma, mica pizza e fichi, la serie per certi versi è piacevole, è carina, si discosta moltissimo in certi punti, molto, non moltissimo, dal fumetto, per poi smarmellare con questo finale alla Stranger Things che proprio mi è rimasto qua, ha detto dai, si stava andando abbastanza bene, e poi si finisce con questo, boh, questa roba che non ho capito veramente, non a un certo punto ha detto cosa sto guardando, boh, non me la spiego questa cosa, e poi concludiamo con Panini, per cui è uscito prima il volume dedicato al Punisher, la serie Punisher Soviet, che riporta insieme un duo, anzi riporta sulle pagine del Punisher, Garth Ennis, dopo che praticamente ha scritto uno dei cicli più belli del Punisher, appunto Ennis torna per questa serie di 5 numeri, insieme a Jason Burrows, il disegnatore feticcio di Alamur, per appunto questa serie, presumibilmente appunto, come dice il titolo, ambientata in Russia, o che comunque abbia come sfondo l'Unione Sovietica, e appunto sembra, diciamo che ci sono ben pochi, come dire, ben pochi dubbi, un personaggio così figo, con uno scrittore che è eccezionale, soprattutto che dà il meglio su certi personaggi, soprattutto su un personaggio come il Punisher, che conosce molto bene, che per certi versi ha aiutato a definire lui, sì, ci si può aspettare veramente poco, poi aggiungiamo il fatto che appunto Jason Burrows, è un disegnatore che con botte, sanguinamenti, violenza, cose strane, ci va veramente a nozze, quindi insomma, penso che sia, non dico un successo annunciato, però sicuramente è una serie che difficilmente mi lascerà appunto insoddisfatto, e concludiamo con un acquisto invece uscito settimana scorsa, che è la raccolta dei primi numeri del Fresh Start di Capitan America, ovvero appunto Capitan America Inverno in America, di Tiny Easy Coats, che dopo il ciclo su Pantera Nera approda appunto sulle pagine del Capitano, disegnato da Lenin Francis Yu, quindi un team artistico molto molto interessante, i primi numeri mi erano piaciuti abbastanza, il presupposto è interessante, abbiamo Capitan America che è da poco reduce del ciclo di, anzi è reduce dal ciclo di Wade e di Sam Ney, quindi uno Steve Rogers che è consapevole, a suo malgrado del fatto che la sua figura sia stata letteralmente rovinata, dalle conseguenze di Secret Empire, quindi il popolo americano non si fida più di lui, il governo americano non si fida più di lui, ma lui cerca comunque di fare la cosa giusta, cerca comunque di, come dire, di fare del bene, insomma, anche se questo vuol dire andare proprio contro il governo, e sembra che poi ci sia dietro tutta questa cospirazione, anche qua che sembra arrivare direttamente dall'Unione Sovietica, c'è un esercito di Nuke, e se avete letto per esempio il ciclo di Remender, e John Romita Jr. più recentemente, o di, no, non era di John Romita Jr., era di Paceco, Carlos Paceco, o se avete letto Daredevil Rinascita, insomma, questo personaggio di Nuke, o se avete visto la serie di Jessica Jones, lo conoscerete abbastanza bene, un personaggio veramente anche inquietante per certi versi, insomma, tra l'altro so che a un certo punto non è che prosegua molto molto bene, e tra l'altro è una serie che può vantare le bellissime copertine, adesso le vado a cercare, di Alex Ross, ce ne sono alcune che sono veramente, veramente eccezionali, se intanto evito di sciogliermi, eccola qua, l'ho passata, guardate che bella questa, con questo dettaglio, mamma mia, bellissima, bellissima, anche questo sono abbastanza curioso di leggerlo per capire un po' come andrà questa serie, e se Coates purtroppo come su Pantera Nera a un certo punto si perderà un po', perché mi piaceva molto l'incipit della serie di Pantera Nera, ma a un certo punto dopo il terzo, quarto numero, devo dire che si è proprio un po' persa, purtroppo, e voglio vedere appunto come prosegue, anzi come va questa serie appunto su Capitano America, scritta da uno scrittore così interessante, appunto spostato appunto da un lido, a quello un pochino anche più, come dire, mi vengo a dire più mainstream, e un pochino più difficile per lui, essendo Tannisi Coates un giornalista pluririconosciuto, pluripremiato, africano, insomma, che quindi conosce molto bene problematiche dell'Africa, problematiche molto vicine anche al personaggio di Pantera Nera, vediamo come appunto trapiantato in America, appunto gestirà il personaggio. Fatemi sapere un po' cosa avete letto, cosa avete comprato voi questa settimana, mi raccomando, potete farlo, anzi dovreste farlo proprio, tramite i commenti sotto il video, in descrizione tra i commenti e il video trovate invece i link, vi ripeto, per acquistare alcuni di questi fumetti su Amazon, e vi ripeto sempre, se lo faceste tramite i link, a me arriverebbe una piccola piccola percentuale, che a voi non toglie niente, però forse è meglio che li compraste in fumetteria, e sempre in descrizione trovate i link per arrivare ai miei contatti. Molto probabilmente, non so se è già mercoledì o venerdì, parliamo di Venom, del Venom di Donny Cates, e ci saranno un po' di cose da dire, mentre non so appunto l'altro video della settimana, che cosa riguarderà. Nel frattempo io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao Beli!